Benvenuti a Istria Oggi, notiziario in collaborazione con Unione Italia. Sono in corso le notifiche per la seconda edizione del concorso nazionale Uno Nessuno Centomila, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Fondazione Luigi Pirandello. Il concorso è rivolto, oltre agli studenti delle scuole pubbliche in Italia, agli studenti delle scuole secondarie e di primo e secondo grado italiane situate fuori dai confini dell'Italia e delle scuole paritarie e straniere. Il concorso si inserisce nel programma culturale ricco di iniziative e progetti linguistico-culturali e scientifici che la Farnesina realizzerà nel corso del 2018 per l'anno dedicato a Italia Culture Mediterraneo. Olimpiadi di Italiano. Sono aperte le iscrizioni all'ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano, organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le Olimpiadi sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane e fuori dai confini dell'Italia e sono suddivisi in quattro categorie. Ci spostiamo a Buie. In vista delle elezioni per il rinnovo del quadro dirigenziale della comunità degli italiani di Buie, previste per l'11 febbraio, tutte le persone interessate al processo elettorale potranno ritirare, a partire da lunedì 15 gennaio fino a martedì 23 gennaio, con orario 18-20, i moduli con le liste di proposta di candidatura per candidati singoli o liste di candidati, come pure effettuare le consegne delle proposte di candidatura presso l'ufficio della Commissione elettorale della comunità degli italiani di Buie, sala della biblioteca. La convalida delle liste e il sorteggio avverranno giovedì 25 gennaio, mentre la campagna elettorale si terrà dal 26 gennaio al 9 febbraio. La proclamazione dei risultati è prevista per martedì 13 febbraio e nei tre giorni successivi sarà possibile inoltrare eventuali ricorsi. In seguito alla convalida delle elezioni, il neoletto consiglio avrà tempo fino al 23 febbraio per riunirsi nella seduta costitutiva. Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, nella sua riunione del 10 gennaio, ha approvato, su richiesta della Comunità Nazionale Ungherese, la facoltà di ottenere sovvenzioni dirette dal governo per il bilinguismo, senza il bisogno di passare precedentemente attraverso le municipalità. Il Consiglio ha esaminato successivamente i preparativi per il riconoscimento annuale della canna costiera, senza formulare nuove proposte. È stato infine discusso il decreto governativo sull'ammissibilità di alcune spese per la canna, testo che penalizzava le attività dei connazionali. Dopo delle consultazioni con l'Ufficio per le nazionalità, sono state ottenute modifiche importanti, sebbene restino ancora dei punti da chiarire. Nella sessione dell'Assemblea della Comunità dell'Italia di Umago è stato varato il piano finanziario e il programma di lavoro per il 2018 e si è discusso in merito al dibattito avviato in seno all'Unione Italiana sulle modifiche dello Statuto dell'Unione Italiana. I consiglieri hanno ritenuto necessaria una riforma dello Statuto, ma hanno affermato che questo lavoro di revisione per essere responsabile necessita di una seria ed accurata analisi dei punti da riformare e di quelli da valorizzare. Per garantire un miglioramento occorre prima definire le linee guida da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il Consiglio si è detto aperto ad un dibattito pubblico guidato, ma solo in seguito alle prossime elezioni. Veniamo al dramma italiano. Dopo le rappresentazioni a Trieste di Anche le pulci hanno la tosse, lo spettacolo per bambini che si rifà al libro di Fulvio Tomizza, realizzato in coproduzione dalla Contrada Teatro Stabile di Trieste e dal dramma italiano di Fiume, è in tour in Istria, presentato a Dumago lunedì, a buia e martedì e oggi a Rovigno. Sarà proposto domani, giovedì 18 gennaio, a Pola e il 23, 24 e 25 gennaio a Fiume. La regia dello spettacolo è stata curata da Diana Hobel. Abbiamo il tempo alle 19.51, sto ascoltando il notiziario dell'Istria, in studio Massimo Bonella qui a Radio Science TV, testata giornalistica, lo ricordo, pianetaogitv.net di Venezia. Abbiamo un'altra notizia, dicevo, da Isola, giovedì 25 gennaio alle ore 18, la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola vi invita presso Palazzo Manzioli al primo appuntamento dell'anno con il cineforum dedicato all'illustre icona della cinematografia italiana e mondiale Alberto Sorbi. Sabato 27 gennaio alle ore 19, la comunità degli italiani Dante Lighieri di Isola vi invita presso Palazzo Manzioli alla festa sportiva, evento nel quale verranno analizzati i risultati degli sportivi della comunità degli italiani Dante Lighieri nell'anno 2017. Vediamo se abbiamo ancora un flash di notizia che può interessare anche per coloro che ci ascoltano nel Veneto, non solo, ma anche fino nelle Marche praticamente, perché l'appuntamento c'è un appuntamento tutti i giorni, ma in modo particolare vi iniziamo questo appuntamento su Radio Rai ogni mercoledì alle ore 16, il programma sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM 936 kHz e in streaming su www.sedefwg.rai.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste, sconfinamenti e disponibili anche in podcast. Quindi vi ricordo la frequenza AM 936, Radio Rai, sede di Trieste, la potete ascoltare fino quasi nelle Marche, tutto l'Alto Adriatico. Ore 16, sconfinamenti e trasmissioni che parlano appunto di queste tematiche. Alle 19.54 non mi resta che chiudere qui il notiziario dell'Istria, Istria Oggi è andato in onda su Radio Saius TV, lettore in studio di Massimo Bonella, vi segnalo solamente questa sera intorno alle ore 23 sulla televisione interregionale Video Telecarne e il nostro settimanale Pieneta Oggi Reporter. È tutto, grazie anche alla collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume, restituisco ora la linea alla regia centrale Radio Saius, vi aspetto alle ore 22 anche sul nostro approfondimento osservatorio antimafia. Buon proseguimento con la nostra programmazione.